Una parte di un paese se ne va, veramente, abbiamo perso un amico. Ci dispiace tanto a tutti. Anche l'aretino oggi piange Paolo Rossi, l'eroe della Mondiale 1982, morto nella notte all'età di 64 anni, stroncato da un male incurabile. Questo 2020 si è portato anche lui, pensato subito a questo. Anno di Prato era diventato cittadino del comune di Bucine da alcuni anni e aveva così scelto la Val d'Ambra per vivere. Avevo 17 anni e per me era un idolo. Poi dopo, avendolo conosciuto, è diventata ancora una persona più grande, diciamo, perché la sua semplicità sembrava una persona irraggiungibile alla mia età, vedendolo in televisione e averci fatto gioire con il campionato del mondo e dopo trovarlo nella strada, così, che il primo che dava il saluto era lui, è stata una cosa bellissima. Qui, assieme alla moglie, gestiva Poggio Cennina, un resort con un'azienda agricola dedicata al biologico. Una persona veramente come noi, una persona molto umile, molto solare, molto gioviale. Probabilmente gli piaceva proprio questo della nostra comunità, che si viveva in un modo semplice, rispettando la sua popolarità e la sua, diciamo, fama, trattandolo come uno di noi. E lui, fin dall'inizio, si è sentito uno di questa comunità. E sempre in Valdarno, Paolo Rossi aveva promosso e partecipato a tante iniziative per promuovere lo sport, specialmente tra i più giovani. Il nostro Paolino, perché era uno di noi, aveva sempre quella faccia a bambino, no? Quella faccia stupenda, con questo riso in bocca, che veramente era una gioia stare insieme a lui. Paolo Rossi si è spento al Policlinico Santa Maria Lescotte di Siena, dove era ricoverato dopo l'aggravamento della malattia. Un campione di gentilezza nello sport, ma anche nella vita, forse e soprattutto nella vita, perché abbiamo avuto tanti scambi di idee proprio su questa cosa. Lui era una persona molto, lui diceva sempre che bisognava essere veri, bisognava essere come uno si sentiva e non artefatti. Quindi era una persona che anche in questo si è avvicinata molto al popolo.